Continua a far discutere la paventata chiusura del punto nascita di Mussomeli, questa volta di intervenire la direzione provinciale del Partito Democratico di Caltanissetta che si è riunita proprio per scongiurare la chiusura del punto nascita. Abbiamo preso atto delle decisioni del Ministro della Sanità Beatrice Lorenzin di non concedere le deroghe previste dalla normativa nazionale alla chiusura di alcuni punti nascita della Sicilia, applicando invece in modo asettico le regole numeriche prescindendo dalle esigenze primarie di vita della collettività, scrive in un comunicato stampa David Amico della direzione provinciale del Partito Democratico. I tecnici del Ministero, leggiamo ancora nel documento, nel negare la deroga al punto nascita dell'ospedale della zona di Mussomeli, non hanno tenuto conto di diversi fattori oggettivi. Innanzitutto l'ospedale di Mussomeli serve a una vasta zona denominata Vallone, Alto Platani, che comprende comuni montani interni di tre provincia, Caltenissette, Agrigento e Palermo, Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, Milena, Montedoro, Bonpensiere, Villalba, Vallelunga e Marianopoli, Castel Termini, Cammarata e San Giovanni Gemini, Castoranovo di Sicilia, Lercara Friddi, Alia, Valle Dolmo e Roccapalumba. Che inoltre tale zona orograficamente è tra le più disastrate della Sicilia per carenze di adeguate vie di comunicazione, tanto da essere definita l'isola nell'isola. Che i comuni della zona Vallone, Alto Platani, continuando a subire la chiusura dei servizi e delle vie di comunicazione, sono destinate a morire, a causa della veloce e continua scomparsa della popolazione. Se potenziata e messa in sicurezza, il punto nascita potrebbe raggiungere abbondantemente i limiti fissati dalla normativa nazionale. Il Partito Democratico chiede dunque al ministro Beatrice Lorenzin di rivedere la decisione sul punto nascita di Mussomeli, concedendo la deroga condizionata al raggiungimento dei parametri di sicurezza entro un determinato periodo. Chiede inoltre all'assessore regionale alla sanità Baldo Gucciardi, al governo regionale, di mettere in totale sicurezza sia il punto nascita che l'intero ospedale di Mussomeli.